Voglio sottolineare che con questo progetto dovremmo parlare più che di costi di un investimento per il futuro, di un investimento per la città, per i nostri bambini, i nostri giovani, come è già stato detto, perché riacquistare il contatto con l'acqua, con tutto quello che di esperienza può dare l'acqua è fondamentale. Si tratta, contrariamente a quanto affermano gli oppositori, di ampliare il Parco Ciani, di fare in modo che il fiume con le sue rive vengano integrate nel Parco Ciani come in un parco che viva veramente. Ecco, mi sorprende un po' la posizione della Commissione Beni Culturali, che vedo questo muro che non è nato come muro del Parco Ciani, perché è stato costruito nel 1905, quindi dopo. I francesi Ciani molto probabilmente non avrebbero voluto questo muro, perché il muro appartiene al Casarate, appartiene a quell'idea di ingabbiare un fiume da Cornarino qui per evitare che i luganesi vi possano accedere. Chi è nato sul lago invece sa cosa vuol dire vivere l'acqua. Allora, noi abbiamo ritenuto come Commissione della gestione che questo progetto è un progetto di alta qualità, è un progetto come è stato detto nel primo rapporto della gestione da tutti, compresi alcuni che adesso sono passati sull'alta sponda, che era una meraviglia per la città. Quindi si giustifica pienamente l'investimento di 6 milioni che va però anche analizzato e contestualizzato. Si tratta di 6 milioni in un progetto globale di sistemazione di tutto questo comparto che ha già visto una spesa di 25 milioni, perché sono già state realizzate delle palizzate, la sistemazione dell'area balneare, la tribuna del Lido, il porto, il circolo velico. Tutto quanto vediamo in quest'area di nuovo è il risultato di questo progetto, al quale manca, a questo progetto manca un tassello, cioè la sistemazione finale della foce. E quindi noi abbiamo ritenuto, noi adesso dico minoranza perché noi c'eravamo maggioranza, ma minoranza della gestione che era perfettamente giustificata la richiesta, è adeguato questo investimento per completare quel disegno globale. Disegno globale che diventerà e dovrebbe diventare ancora più globale se dalla foce risaliremo poi, anzi, parentesi, come Presidente delle aggregazioni il mio auspicio è quello di arrivare a conglobare la Valcolla perché un fiume lo si gestisce già dalle sorgenti, cioè molti disastri che abbiamo a valle sono dovuti a incurie che avvengono alle sorgenti del fiume Cassarate, perché quelle foto che giravano con legni e legname non sono legni e legname che il fiume ha raccolto qui in città, ma che le ha racconti dalle incurie che c'erano alle sorgenti allo stesso. Quindi un investimento che la gestione in parte ha ritenuto, nella prima fase, nel 2008, ha ritenuto globalmente necessario, poi siamo diventati una minoranza. Io mi sono mantenuto coerente invece con questa decisione. Sei milioni, bisogna anche analizzare questi sei milioni, bisogna innanzitutto dire che un milione di questi sei sono necessari, strettamente necessari per una palificazione sulla sponda sinistra che è urgente perché deve essere fatta, quindi indipendentemente dalla realizzazione del progetto quel milione va speso. Quindi cominciamo a dire che in questi sei milioni c'è questo milione, ma occorre anche accogliere con piacere i due milioni e quattro che inizialmente erano previsti solo nella misura di un milione e un milione e mezzo da parte del cantone e della Confederazione. Il significativo è il fatto che vengono dalla Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio e dal Fondo Svizzero per il paesaggio. Quindi riconoscimenti esterni che non sono legati alla soggettività della valutazione di ognuno di noi consiglieri comunali, ma che sono passati al vaglio di commissioni che affrontano in tutta la Svizzera queste nuove modalità di approcciarsi alle acque e al paesaggio non visto più come un nemico dal quale difendersi. Un investimento prioritario, perché qualcuno dice il progetto va, ma a noi non sembra prioritario. Ricordo che questo investimento è previsto nel piano finanziario recentemente elaborato dal Municipio. Quindi il Municipio ha ribadito la priorità e la sostenibilità di questo investimento, altrimenti non l'avrebbe messo nel piano finanziario. infine ho letto che nella conferenza dei contrari, la conferenza stampa dei contrari, si sosteneva la problematica degli onorari troppo elevati, 898 mila franchi di onorari ritenuti troppo elevati. Ecco, è stato fatto passare il messaggio che è l'onorario del progettista, quando chiaramente nel messaggio municipale si legge che sono gli onorari dei progettisti, perché in una realizzazione così complessa e così delicata come la riqualificazione della foce sono molti gli aspetti che vanno studiati e approfonditi. Quindi i progettisti sono sì gli ingegneri civili, ma i tecnici, gli specialisti in geologia, in biologia, in idraulica, in tutto questo fa lievitare il costo dei progettisti a questa cifra. Ma bisogna essere chiaro che è per tutti questi. La conseguenza o la riflessione conseguente è che il piano è stato studiato seriamente e a fondo, cioè che tutti questi specialisti hanno dato il loro preavviso favorevole o hanno dato i loro suggerimenti e quindi i costi per me hanno una valenza positiva. È positivo che siamo arrivati a questi costi perché vuol dire che non si tratta di un progetto improvvisato, buttato lì, un'idea schizzata, ma che dietro questo progetto ci sono studi molto seri che ci permettono di assumere un rischio ragionato nei confronti del futuro. Perché è stato studiato sotto tutti gli aspetti. Quindi direi che tutto un po' si rivolta a dipendenza dei punti di vista, chi dice è esagerato, ma io sono più sicuro e tranquillo avendo in mano degli studi, delle perizie che mi dicono questa soluzione dà tutte le garanzie di sicurezza perché è stata studiata sotto tutti i profili.